Il Regno Unito è scosso dalla notizia che tutti temevano e che forse tutti si aspettavano. Re Carlo III ha un tumore. Lo ha confermato Buckingham Palace in una nota sottolineando che durante il recente ricovero alla London Clinic del re per un'operazione alla prostata è stata notata la presenza di qualcosa di più preoccupante. I successivi test diagnostici hanno identificato una forma di cancro. Sua maestà, spiega la nota, ha iniziato da subito un programma di cure regolari durante il quale continuerà a intraprendere gli affari statali e le pratiche burocratiche ufficiali come al solito. Carlo III ha scelto di condividere la sua diagnosi per prevenire ogni forma di speculazione nella speranza che questo possa aiutare tutti coloro che in tutto il mondo sono affetti dal cancro ad accettare combattere la malattia. Il re ha voluto ringraziare l'equip medica per l'intervento, reso possibile proprio grazie al recente ricovero ospedaliero, rimanendo del tutto ottimista sul suo trattamento e impaziente di tornare ai doveri pubblici il prima possibile.